White Brations Ciao a tutti! Comincia un nuovo programma a Bedda Radio. A Condurlo ci sarò io, Elisa Di Dio. Il titolo è Le parole sono importanti e con me in regia ci sarà Gabriele Fascetta. Le parole sono importanti, ne parleremo con ospiti di volta in volta diversi. Vi ricordo l'appuntamento sarà dalle 19.30 alle 20.30 ogni mercoledì sera. Vi aspetto naturalmente in tanti qui su Bedda Radio. Campioni, un programma di Altro Sport. Andremo a conoscere atleti e sportivi della nostra provincia e li andremo a conoscere nelle parti più sconosciute, nella fatica, nel dolore, nelle gioie. Ogni lunedì su Bedda Radio dalle 19.30. A Condurre sarò io, Riccardo Cacca. Sono in ritardissimo. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il programma. Ma che programma? Dobbiamo fare improvvisamente con Michael, Giuseppe e Giovacchino tutti i mercoledì dalle 22 alle 23 su Bedda Radio. Ciao ragazzi, benvenuti su Bedda Radio. Quest'anno riparte più forte che mai la stagione radiofonica 2017-2018. Quest'anno torna anche Casa Bedda Radio con il nostro Luca. Con il nostro Frank. Un programma di varietà, sempre giovedì fisso, Frank. E fisso dalle 20 alle 22. Ci saranno musicisti, artisti, circensi, trapezisti, ballerine, diptati. Eppure ci saranno spacciatori. Buttane giornalari. Quindi mi raccomando ragazzi, ascoltateci tutti i giovedì dalle 20 alle 22 con Luca e Frank. Casa Bedda Radio. Listen to Bedda Radio. 360 Rail. Un programma rivolto a tutti i giovani a 360 gradi. Di musica. Di sport. E molto altro ancora. Tutti i martedì dalle 21 alle 22.30. Con Giuseppe. Francesca. Leo. Elia. Alfredo. Emanuele. E molti altri ancora. Su Bedda Radio. Ciao, sono Pietro. Vi aspetto ogni lunedì alle 17.30 con Independence Chart. La classifica dei 20 brani indie più suonati in Europa. Solo su Bedda Radio. Ciao. Brecca l'Italiana. Con Savio e Ottavio. Tutti i venerdì. Dalle 20 alle 21. Su Bedda Radio. Bedda Radio. Bedda Radio. Estendi la tua musica. Stai seduto. Rilassati. Ascoltati. E se proprio ti credi diverso, ascoltami. Freak. Tutti i venerdì alle 21.30 su Bedda Radio. Se ne hai il coraggio. Stai tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.